ancora c'è sta gente che dice oh che ne so cena di pesce tutti sti tormentoni come so per te ti hanno pure rotto il cazzo oppure è figo avere sto ritorno è una cosa bella perché poi comunque ti permette non conoscendo le persone di rompere immediatamente il ghiaccio cioè quindi è come siamo amici da tanto tempo eppure non ci conosciamo la cosa imbarazzante è quando arriva il bambino piccolo da te e ti fa cena di pesce no 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 sta zitta prego oppure la vecchia no no signora non si può ciao amici bentornati a we got you oggi siamo qui con luca vacchi autore di balletti tiktok e presunto sfruttatore di filippini ah no zi è luca vecchi ah oggi era? luca vecchi ok allora è regista regista sceneggiatore scrittore scrittore vabbè teniamo così dai ok bentornati a we got you davo inizia a te o inizio io? ma abbiamo iniziato abbiamo iniziato abbiamo iniziato pilota automatico grazie per essere qui con noi e questa domanda l'ha scritta Brian come inizio mazza bello che vi lavate le mani esatto perché vogliamo sapere subito la tua infanzia raccontaci un po' la tua infanzia l'adolescenza il fanciullino pascoliano esatto ma che cosa volete sapere della mia infanzia perché è un periodo molto vasto variegato infatti no perché io in qualche altra intervista avevo sentito che accennavi un po' al discorso che prima dei The Pills avevi un po' una tendenza forse anche un po' simile ai Kikomori cioè nel senso il discorso di uscire poco poco contatto ma quelli erano le pippe sai una cosa crepuscolare che ti rinchiude in casa per anni a pensare all'infinito tipo Leopardi le pippe no a parte gli scherzi cioè in realtà a Giardinetti che è una frazione di Roma Sud molto vicino a Torbella cioè tra Giardinetti e Torbella non è che ci sia tantissima differenza insomma le stesse dinamiche però sta poco non ci stanno le case popolari non ci stanno le torri però insomma poco ci manca tutti i miei coetanei all'epoca posso dire quella delle medie quella delle superiori non si facevano i pippe il loro interesse si facevano i pippe però conciliavano con modificher motorino fanno strappo uno scippo spegniamo il fumo cose così e chiaramente a me quelle cose non è che mi riguardavano perché la mia famiglia era fortemente cattolica cioè erano delle persone erano dei borghesi che abitavano in borgata una cosa tipo persone per bene in mezzo a sì erano fondamentalmente dei palazzinari però non palazzinari che avevano i villoni cose così c'era un airbox cose così diversificavano in questa maniera e quindi ero molto tutelato dalla mia famiglia che aveva un'impostazione molto rigida e quindi io non mi riuscivo ad amalgamare insieme a queste persone quindi chiaramente ripiegavo su altri interessi che potrebbero essere i manga tipo manga in tempi non sospetti cioè quando ancora non esisteva prima di Attack on Titans diciamo eh sì molto prima tipo vent'anni prima di Attack on Titans vent'anni anzi non esistevano le fiere del fumetto cioè questo questa attenzione che c'è oggi forse esisteva Lucca per ditte o l'Expo Cartoon si chiamava non era RomX all'epoca e andare alle fiere del fumetto era una cosa da nerd però nerd adesso è abbastanza normalizzato quasi positivo ormai i nerd sono al potere tra virgolette è una categoria socialmente accettata una volta il nerd era o guardavi come se guarda un pedofilo capito o guardi come guardi in caso umano una persona stramba che ha delle inclinazioni come guarderesti Geoffrey Dahmer fondamentalmente guardavi un nerd adesso i nerd sono ovunque capito lo guardi è normale pure le fregne nerd all'epoca erano una cosa proprio impensabile capito erano tutti i metallari dei provincia capito se devo connotarli in una maniera molto precisa questo è quanto ok questa è la mia infanzia questa è la mia infanzia no vabbè in realtà io e Matteo Corradini ci siamo conosciuti alle medie cioè anche Matteo era molto insolito capito quindi ci siamo presi subito mi si ritrovati si lui giocava i videogiochi tutto il giorno cosa che all'epoca non si faceva oggi la gente ci guadagna addirittura pensate pensate modelli di business pazzeschi tu eri il futuro in proprio parole si ero il futuro senza capitalismo senza capitalizzare cioè perché poi io gli ho detto a Matteo mille volte ho fatto ma scusa Matteo tu giochi tutto questo tempo ai videogiochi sei una persona mezzanota seminota cioè comunque sia perché cazzo non ti riprendi cioè fai un video e streammi a palla di fuoco lui mi dice no guarda io vorrei quella cosa mi ha risposto in una maniera molto etica cioè come per dire quella cosa io la voglio tenere per me cioè per me quella è una valvola di sfogo comunque sia una cosa che mi ricrea e trasformarla in un lavoro mi metterebbe ulteriore ansia cioè capito non sarebbe più una valvola di sfogo e quindi perderebbe la sua ragione d'essere e questo è bellissimo anche perché poi magari ci arriviamo dopo quei debils però rischierebbe poi di farti diventare workaholic pure in una cosa che ti piace e alla fine per quanto cioè spesso si dice se fai qualcosa che ami e la rendi il tuo lavoro è come non lavorare in realtà è una cazzata in realtà questa frase è molto tricky cioè perché c'ha diverse chiavi di interpretazione cioè perché e non lavorerai un giorno della tua vita non è vero cioè in realtà lavorerai ogni giorno della tua vita ogni secondo e ogni minuto della tua vita quindi porta a un burn out pure quello capito e in tutto questo scenario quindi Matteo lo conosce alle medie Luigi invece quando arriva? Luigi l'ho conosciuto al liceo perché suonavamo insieme con Matteo abbiamo visto cercavamo nuovi modi per non scopare e che ti abbiamo detto ma perché non si mette ma suona degli strumenti cioè tipo male con l'idea male vabbè poi bene o male in realtà è labile il confine capito poi in quella scena c'era la scena punk che bazzicavamo ma chi cazzo è che sapeva suonare dai guarda non è che la gente andava al conservatorio per fare i blink 182 non è che ci vuole questa fantasia e abbiamo messo su questo gruppetto e Luigi era il fratello del nostro batterista ok e niente poi ci siamo per una questione di affinità elettive ci siamo incontrati ma diciamo iniziate a fare i debils perché già studiavate recitazione oppure è nato completamente a cazzeggio nessuno di noi ha studiato mai tu studiavi ok io studiavo Dams partita da te che poi tra l'altro la cosa che dicevi prima fa sta cosa riprenditi avete fatto anche un po' quello nel senso a me è capitato con gli amici oh stiamo qua chiusi a farsi le canne che ce vuole poi c'è voi fate pure un lavoro perché si vede anche che qualcosa è studiato cioè inizialmente poi più avanti ancora di più però uno dice cazzo riprendiamoci stiamo a dire cose che fanno ride mettiamole pure noi però alla fine non lo fa nessuno voi l'avete fatto anche bene ma in realtà all'inizio lo facevamo e facevamo vedere questi cortometri ai nostri amici cioè quindi era una condivisione interna circoscritta e limitata poi abbiamo detto vabbè ma perché non lo facciamo vedere pure gli altri magari condividono il nostro stesso umorismo le nostre stesse dinamiche e così effettivamente è stato quindi è stata una bella opera di condivisione di sharing di dinamiche poi perché poi condividevamo gergo proprio cose che succedevano fra di noi abbiamo notato che comunque sia anche altri pischelli c'erano sia lo stesso nostro gergo queste le stesse condividevano le stesse dinamiche quindi è stata una cosa figa eh sì anche perché poi quello che ho scoperto di recente è che tipo l'80% dei video sono ispirati a storie vere abbastanza o a storie vere nostre o per sentito dire e poi portate chiaramente all'eccesso è stato figo perché in realtà quando te capita le cose più belle di un'esperienza la cosa più bella che ti può succedere in un'esperienza negativa è vera quella cosa che tipo che dici un giorno rideremo di questo perché la storia lineare cioè la storia la storia liato fine non frega un cazzo a nessuno cioè perché io vado dal punto A al punto B tutto è filato liscio grandi a posto così la cosa più bella che ti può succedere è una storia che va male perché una storia che va male poi a distanza di tempo assume sempre più valore ed è la cosa più bella che ti puoi portare a casa se ci pensi e The Pills era un po' il modo per esorcizzare queste storie andate male cioè capito tutto quello che mancava a livello del storytelling veniva aggiunto in una sorta di post produzione mentre stai chiudendo il racconto mentre me le dici mi vengono i video rispetto a questo eh sì cioè per forza capito cioè quando tu vuoi che le cose vadano in una certa maniera e non ce vanno prega almeno che vadano nella peggiore dei modi perché quello almeno è una story to tell la puoi raccontare e te la puoi tagliare esatto la puoi condividere e te puoi tagliare qua amici tua cioè quella è una cosa bellissima e su quella roba c'è ancora se ne parla ancora c'è sta gente che dice oh che ne so cena di pesce piuttosto tutti sti tormentoni come so per te ti hanno pure rotto il cazzo oppure è figo avere sto ritorno ma è una cosa bella perché poi comunque ti permette non conoscendo le persone di rompere immediatamente il ghiaccio cioè quindi è come essere amici da tanto tempo eppure non si conoscemo la cosa imbarazzante è quando arriva il bambino piccolo da te facendo le pesce no 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 sta zitta prego oppure la vecchia no no signora non si può me confermi persone che non c'entrano un cazzo con te vogliono stabilire un contatto con te ma non appartengono manco alla tua fascia d'età capito stanno diversi gradi di separazioni e diversi come si dice gap generazionali in mezzo però vabbè la fai finta di niente la butti in cacciaraio e te ne vai una piccola cosa ti volevo chiedere che la scelta cioè perché voi poi giravate con gli iphone era proprio una no no erano reflex ah sì perché gli iphone era una tecnologia che ancora non non performava all'epoca mi ricordavo che a un certo punto usate anche quelli no no perché è difficile cioè almeno io ho sempre trovato difficoltà adesso forse si può fare probabilmente sì perché ci stanno i spallacci per gli iphone e le ottiche per gli iphone però gli iphone erano ingovernabili all'epoca e la scelta del bianco e nero invece pure per sopprime perché avete fatto sta scelta perché la scelta del bianco e nero è allora se scureggi o bestemmi a colori è volgare se scureggi o bestemmi in bianco e nero contrastato è nuova il vag è subito decadente cinema dell'arte è artistico capito cioè una cosa tipo truffò e quindi serviva però alla fine ti aiuta pure a livello dei lucidi quello tantissimo tantissimo perché però il primo pensiero non è stato quello del livello dei lucidi è stato proprio al livello emotivo no no è stato al livello dei lucidi è vero ma è sgamato ma è smascherato sì 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 non te la si fa no perché chiaramente tu saprai benissimo da te che riprendere una stanza con le pareti bianche è una merda cioè è proprio brutta in culo capito più la stanza è regolare cioè quadrata e più è brutta in culo cioè quindi automaticamente per cercare di bypassare tipo questo impasse manco piazzia e luci metti apri tutti ISO e metti in bianco e nero e arrivederci amore ciao e l'hai portata a casa in una maniera dignitosa ti evo pure frutto è stato anche quello che dici te cioè alla fine è vero che se scureggi e bestemmi siete da tutta una lure no beh in realtà era anche un po' ispirato a Clerks ho visto Clerks poi no ammazza è un film bellissimo ne hanno fatti tre tipo presumo credo ed il primo è in bianco e nero di Kevin Smith non l'avete mai visto? no dai Silent Bomb Jay e Silent Bob non li conoscete come c'è che figura di merda che figura di merda che è passio se potete se potete tu l'hai visto? no il terrifico di merda l'abbiamo fatto perché quando lui ho fatto recuperatelo però tu stai pure fuori camera apri wikipedia cazzo eppure è andato eppure è andato credo quell'anno l'anno in cui uscito a Venezia poi peraltro e Kevin Smith è un regista indipendente americano che poi è finito a scrivere anche per i fumetti per la Marvel e la DC quindi è un figo Kevin Smith è una specie di icona in America no ammazzo e invece quando avete fatto avete iniziato il progetto dei Pils pure dopo che avete iniziato ad avere tanto successo no? dai come on man dentro Roma come on man dentro l'accordo io spiego a trovare una persona che non ve conosce no infatti no però proprio quello ti ve lo chiede cioè c'avate paura di diventare un po' troppo cioè come vi siete spiegati il fatto che avete avuto successo non solo a Roma ma anche nel resto d'Italia perché comunque tante cose sembrano strettamente legate all'ambito romano invece poi fanno un botto rite anche tutti gli altri pischelli d'Italia ma alcune alcune persone ci hanno scritto e dicevano che nonostante non conoscessero la geografia di Roma o il dialetto riuscivano riuscivano comunque a identificarsi nelle stesse dinamiche e a sostituire i posti i luoghi con altri posti e luoghi che loro frequentavano e che conoscevano cioè quindi c'era una specie di bypass o linguaggio un bypass culturale che permetteva comunque a loro di identificarsi nonostante non avessero insomma nozionistica in merito cioè quindi sta cosa era molto figa però non so magari era un viaggio di questa persona che ha scritto no no invece vuol dire che erano universali sì erano universali e nonostante il il gap culturale veniva colmato da inconsciamente quasi magari pure a Milano hanno un ipodromo un negozio di caccia e pesca dicono esatto e riescono a fucciare esatto esatto e ti volevo chiedere un'altra cosa su The Pills sì che c'è stato a un certo punto che per me è andata fortissimo poi è stata andata molto bene e poi non so cosa è successo avete un po' mollato io ad esempio dopo di voi o insieme a voi sono partiti The Juggal a me non mi facevano ridere per niente The Juggal adesso no credo che siano antecedenti The Juggal sì sì erano scoperti dopo cioè io mi ricordo voi già è uscita la cosa di Beef The Juggal con Gomorra e a voi già vi seguivo da parecchio è uscita sta cosa mi faceva ridere per niente poi ho cominciato a vedere un po' di video loro che giravano e non mi ci ritrovavo per niente poi dopo un po' voi siete spariti ma secondo me erate proprio un'altra spanna adesso i The Juggal vabbè sono partiti in un modo voi siete un po' io non posso parlare perché lavoro per i The Juggal no serio infatti ho visto che il film uno dei film che hai fatto poi come attore anche diciamo che sta su YouTube era prodotto da The Juggal proprio ah no era distribuito era vittima degli eventi quello di Claudio Di Biaggio esatto sì sì è stato infatti mi chiedevo questa cosa come era successo comunque no non volevo fare quel senso a me The Juggal mi fanno impazzire però c'è stato un momento dove preferivo voi e dopo il film voi siete un po' dopo il film forse abbiamo raggiunto un momento di un picco di scusate bruttino scusate abbiamo raggiunto dopo il film abbiamo raggiunto un picco di saturazione sia a livello creativo che magari a livello relazionale nostro interno e abbiamo deciso di allentare un attimo la presa perché eravamo molto molto stressati è arrivato il burnout sì è arrivato il burnout perché siamo passati praticamente dalla seconda serie a un programma televisivo a un film uno attaccato all'altro cioè quindi poi alla fine siamo arrivati proprio esausti e internamente abbiamo un po' scapocciato poi c'avevamo anche un po' il bisogno di staccare e uscire da quella forma mentis e cercare di utilizzare le nostre abilità comunque sia cioè vedere se innanzitutto indipendentemente l'uno dall'altro riuscivamo comunque sia a funzionare cioè ad avere una professione individualmente e poi cercare anche di spaziare cioè perché non credo che la narrazione tra virgolette di The Pills possa essere un'industria cioè non è che hai dato vita alla Coca-Cola cioè capito la Coca-Cola che è diventata talmente iconic cioè che voglio dire poi va da sé anche il bisogno banalmente di crescere e vedere se quello che sai fare può essere applicato anche ad altre cose altre cose anche molto diverse la scelta coraggiosa di provare anche nuove cose ma secondo me era inevitabile perché cioè voglio dire tu racconti la vita dei studenti fuori sedi o fuori corso che stanno seduti intorno al tavolo e fumano erba alla fine sono vecchi eh sì cioè se ho 52 anni in posto sta seduto al tavolo a far me canne cioè sì ok forse se lo può permettere James Franco e Seth Rogen tutta la frat pack però insomma voglio dire c'hai anche bisogno di raccontare altre storie e come è andata questa esperienza versionale a parte a Matteo e Luigi magari a te per esempio ecco beh in realtà è sempre in divenire cioè perché banalmente cioè per dirti sono stato anche a Pitch in produzioni dove dove mi dicevano c'è te fai ride però magari non conoscevano la mia parte più dark cioè perché comunque ho scritto anche cose come attore drammatico no no ho scritto cose drammatiche ho scritto un cortometraggio che ha vinto il nastro d'argento nel 2018 che parla di un padre che abusa la figlia c'hai capito come no che si chiama Christmas Carol sì sì ho scritto un altro cortometraggio su su un partigiano sì scritto e diretto e prodotto anche ci ho messo proprio il cash il cash tipo domani spendiamo 20.000 euro è uno di quegli investimenti che sicuramente non farò più perché non è che so Steven Spielberg però ti serve anche a vedere cioè una persona che racconta delle storie gli piace anche riuscire a vedere se è capace di raccontare cioè le storie tu vuoi funzionare come storyteller cioè vuoi funzionare a raccontare le storie cioè la domanda è hai abbastanza sensibilità cioè tipo per riuscire ad usare dei registri che non hai mai usato cioè io personalmente quando ho cominciato all'epoca dell'università all'epoca dei primi cortometraggi volevo fare regista horror e provare a fare cortometraggi horror tipo Sam Raimi sta cosa qua splatteroni è tipo l'ultimo de Spielberg l'hai visto questo coscito? no 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 non l'ho visto no quello sulla autobiografico ho capito ho capito ho capito quale è parte così di lui che voleva fare horror da bambino bellissimo però vedi Spielberg però è una persona che comunque sia come Kubrick no cioè ogni genere che ha toccato poi è Remita cioè è riuscito perché Spielberg è un imprenditore prima di tutto cioè mentre lui sta a girare sta chiudendo il film già sta a pensare ai pupazzetti ai videogiochi cioè capito già sta a pensare merchandising che per lui l'importante è che il film lo devono vedere tutti non è che per un bacino utenza lo deve vedere dal bambino dei tre anni fino al vecchio dei 97 anni e in realtà questo è quello che dovrebbe fare a uno storyteller via un imprenditore cioè se non vuoi finire per stracci perché sennò poi è capace che il sogno che hai nel cassetto ti sfibra e ti rovina è peggio del crack che dici cazzo se ogni porta che devo provare fa un lavoro vanno 20.000 euro sì fatte le pere perché sicuramente ti diverti di più perché c'è stato sta roba che comunque al commerciale poi ci devi arrivare per forza l'altra volta parlavamo pure di musica c'è stato il cantante di nicchia che ti piace alla fine va alla fine diventa commerciale certo cioè dipende da una gara di resistenza però pure se ci metti se guardi la curva di trasformazione che hanno fatto alcuni artisti cioè prendi Goetz per ditte Goetz prima era un rapper duro e puro non dico che stava ai livelli non dico che faceva la stessa roba del truce clan però insomma andava verso quella direzione un po' più secca un po' più dura cioè io mi ricordo tipo esatto comunque c'aveva un'identità più più repulsiva repellente invece poi ha cercato di allargare il suo bacino dance ci ha provato ci ha riprovato ci ha riprovato e poi comunque sia è diventato è fiorito è diventato cioè devi anche cercare il compromesso tra quello che vuoi fare esatto quello che mi piace e quello che vuoi fare quello che vuoi fare se lo vuoi continuo a fare chiaramente se deve sposare con baci in utenza se no se no ci mori cioè non ci puoi mangiare comunque a che punto sei? a che punto sei? eh qua eh qua no ho messo abbastanza bene pure perché riesco nel nel tempo ho imparato a diversificare cioè adattare comunque sia il mio sogno all'obiettivo in questione che può essere sia la commissione cioè come soldato di ventura cioè per mercenario è brutto quando fai mercenario e non riesci a fare mercenario però quando riesci a fare quando ti danno un compito per esempio adesso ho scritto uno spettacolo teatrale monografico su Luca Ward ok ho detto porca troia che cazzo sto a fare io al teatro non ce son mai annato manco armatine coi ragazzini a vedere Pinocchio però te documenti cioè se ti piace fare quel lavoro cioè se ti piace raccontare mettere in scena e e fare performance per per quello che concerne l'ampia accezione di questo discorso te documenti ma io sono andato a vedere che ne so spettacolo teatrale di pieno insegno mi interessa no però indagini di mercato cioè ti cerchi di documentare e dici ah questo funziona quell'altro no in maniera lucida certo non è che muoio dalla voglia di andare a vedere lo spettacolo di pieno insegno però una cosa che però è in grande no no è in grande guardi lo insegno fa parte del mio genoma è anche un amico capito ormai sento la sua voce vedo Aragorn non è questo il giorno non è questo il giorno forever in the art però mi interessa sapere della vita di pieno insegno no cazzo è chiaramente un dissociato non è che ha fatto la vita di qualsiasi persona ha fatto la vita di una persona particolare quante persone riguarderà la vita particolare di pieno insegno zero una decina di persone a rione monti poi il resto zero però insomma te lo vai a vedere cerchi di capire cosa ti piace cosa non ti piace cosa funziona cosa non funziona e cerchi di fare la stessa cosa e mo l'hai scritto e sta andando in giro per le province sta andando sta giante ride se dai a sarsampia di battere le mani quindi presumo che quanto quanto ti porti appresso un po' sta cosa pensavo prima del fatto che magari ti chiamano per scrivere appunto uno spettacolo teatrale piuttosto che non so il rai avete fatto un sacco di cose avete scritto un sacco di cose quanto ti porti e magari anche vi portate appresso la nomina appunto cioè dei pilze quelli che si fanno le canne intorno al tavolo parlano delle cazzate eccetera eccetera cioè in quel mondo magari a volte perché come dici te hai altre aspirazioni anche oltre a fai dei pilze solo no vabbè ma se se te chiamano vuol dire che comunque vogliono mettere un po' di quella cosa di quella stramberia di quella forma mentis quindi vogliono la locura è meglio che è meglio che in quel caso tu sia più te stesso possibile perché se te hanno chiamato vuol dire che vogliono quella roba poi magari ho dei matti e ti dicono fai quello che dico io e ti dici vabbè poi ti fa pure te non è che serviva che io partissi da casa però guarda secondo me i paletti ti fanno crescere molto perché ti spingono a pensare comunque sia in una maniera che non è la tua e se tu hai l'apertura mentale di provare a conciliare tipo le richieste di terzi con le tue è una grande opera di maturità non so se quindi fai un sacco di sceneggiatura te e regia 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 in realtà non tanto anche a livello di cioè quello che ho visto fa a livello registico secondo me sono prodotti molto fighi ti ringrazio però non sapevo scrivessi scrivessi tanto cioè pure Matteo Matteo pure scrive ho scritto anche un videogioco e pensavo fosse più lui cioè sempre insieme però insomma avevo un po' divisi ti pensavo più sulla parte registica ma guarda ti posso dire in realtà il regista cioè il regista ormai cioè il set è veramente un posto de merda no perché forse dico così perché il set è un posto fatto di tanti compromessi che sulla carta non hai cioè perché quando c'è il foglio bianco davanti per quante indicazioni le possono dare cose così c'hai ampio margine di manovra cosa che sul set non hai perché non hai i mezzi tecnici non hai il tempo la comparsa è stata rapita dagli alieni cioè si presentano tutta una varietà di problemi io sono una persona che somatizza molto quindi quando dovevo andare sul set praticamente la mattina passavo dall'osteopata che doveva un attimo maneggiare le viscere per distendere per riequilibrare il chakra esatto da riallinatte il chakra e quindi ho pensato che forse se la situazione non è non dico idilliaca però c'è una situazione tranquilla perché poi sono sempre accollato guerriglia cioè set guerriglia style c'hai capito cose che Bear Grylls capito dormi dentro un cammello queste cose così l'ultima che abbiamo girato è questa serie tipo per fantacalcio che era molto molto carina che non è mai uscita perché ci saranno dei problemi contrattuali tipo con Sky sono tipo tre quattro anni che questa serie è ferma lì e pensare che io sono pensare alla roba che io ho somatizzato che stavo diventando proprio la mosca di Cronenberg per buttarla al cestino allora ho detto ma chi ma chi tu fa proprio ma che cazzo me frega ma io sto dietro un computer e scrivo le cose se magari non funziona mi dicono guarda non funziona ti piscio oppure scrivi un'altra roba automatizzo sicuramente de meno se la cosa non viene non viene come bene o comunque devi portare a casa del footage che fa cagare ti pia male ti pia male pure dopo perché comunque quella cosa continuerei a vederla su uno schermo montata e rimontata ma per quanto la puoi montare farà sempre cagare e quindi questa sofferenza infinita che ti porti a presso è come una malattia neurodegenerativa allora chi cazzo te lo fa fare ma invece a livello registrico c'è passata dalla saletta che stai in bianco e nero e tutto a trovate una red o quello che sia e le luci e le cose e il gestire una troupe come è stato come l'hai gestita inizialmente come l'hai gestita come è stato è stato sicuramente come è passata a guidare una bicicletta con le rotelle a guidare un Maserati un Maserati un Maserati senza ruote ha sparato sulla Roma ha preso il mudo praticamente ho preso il muro fratelli il film si chiama ho preso il muro fratelli in maniera profetica no però a parte gli scherzi cioè però forse il film era era mascherato da da Lambo però non era una Lambo capito cioè dentro c'era un riscio dentro c'era un riscio cioè che cos'è che non andava eh perché perché era un film mascherato da 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 sketch girato a casa tua cioè capito quindi non ti posso manco di che fosse un film organizzato cioè una macchina messa in piedi con i dovuti grismi cioè perché se fosse stato se così fosse stato cioè probabilmente non sarebbe uscito quello che cioè non è come se dovrebbe fare cose cioè tu c'hai un pochino di illusione perché te subito chiaramente stai là perché io chiaramente non ero mai stato su un set cioè capito quindi mi ha ammoccato subito capito cioè dice oh questo è il set ma no ma questa è casa mia raga cioè ma che quella è mia madre è tutto come prima sì però abbiamo c'è una luce dall'altra parte della strada su un terrazzo ok e che significa quindi non cioè c'è un po' il rimpianto lo vorresti rifare domani magari con altri mezzi o con una produzione lo vorrei no lo vorrei rifare con una consapevolezza diversa cioè con la consapevolezza di di come si lavora certo e non si lavora così nessuno non si lavora così e mo' a livello registrico invece come ti trovi cioè ti è capitato o stai molto più sulla sceneggiatura no ormai scrivo e basta scrivo scrivo libri sceneggiature serie roba così sto meglio sto meglio sì non mi cascano i capelli mi sarza ancora il cazzo è un lusso guarda come sta Brian con sta cosa con sta cosa mi viene in mente tipo buco a tintoria che sto a casa devo scrivere cose c'ho delle scadenze come come te gestisci come te gestisci no si fa te imbastisce comunque te te svegli e ti metti subito a provare a scrivere no è difficile entrare nella bolla specie con le distrazioni di cui abbiamo parlato io ho cancellato sì ok ho cancellato le applicazioni carcola cioè io faccio di tutto tipo per per sabotarmi sì sì perché è proprio una dipendenza poi poi io ho scoperto oggi stavo stavo scrollando tipo e continuo a fare oddio è tutto brutto è tutto brutto e la mia ragazza mi fa dall'altra stanza staccati da instagram oh è vero via via e poi cioè c'è un rapporto proprio simbiotico con il device c'è dei compiti di merda comunque poi ti attacca capito è tipo vano avete posso dire una cosa oggi mi si è oggi mi si è avuto il telefono alle 3 alle 3 no aspetta hai respirato cioè mostro inizia a andare a respirare e sono le 8 perché stiamo a chiacchierare così perché comunque stiamo a chiacchierare non ce l'avrei appresso ma fino alle come sono arrivato il mondo vero com'è come sono arrivato un'ora fa stavo un cazzato nero stai un cazzato fracido eri elettrico però adesso stai meglio comunque non l'avrei utilizzato un po' sì per forza di cose adesso quando finisco devi farti violenza è una roba terribile eh ma infatti te ne hai occupato non devi pensare perché se pensi pensi di Instagram il tuo pensiero ormai è entrato talmente qua dentro che ti scrolla capito mentalmente tipo cocai nomani questa pure la mandiamo come clip hashtag Instagram hashtag sugarberg hai visto Zuckerberg che ha vinto il suo primo oro in brasilian jiu-jitsu tipo minchia riesce a fare proprio tutto questo bastardo non ce l'ha per me mille miliardi chissà se l'ha pagato chissà se ha apprezzolato il suo avversario andiamo a controllare il suo estratto conto secco fracido però li sfonda tutti campione in tutti posso dire una cosa allora quale è la domanda che aveva scritto Brian io se stiamo su Instagram cosa ti piace guardare a livello di contenuti punto interrogativo guilty pleasure punto interrogativo questo punto mi sembra adeguato bravo bravo cosa mi piace guardare i contenuti mi piace guardare un sacco prossimi congiunti che secondo me è il nuovo blob perché ci sono è un carosello di video estrapolati da vecchie trasmissioni degli anni 80-90 ok tipo Rai, Mediaset e cose così però tematiche capito quindi ogni carosello è molto tematico cioè si parla capito di coming out capito è molto su queste cose tipo Aldo Busi non c'è stato sketch della Carrà è proprio l'argomento sì sì Aldo Busi che sbrocca le persone capito che litiga con Alba Parietti capito ormai oppure che ne so i caroselli su su Franca Leosini cioè le sue sparate perché poi Franca Leosini si abbandona al turpiloquio però anche Lasciarelli si abbandona al turpiloquio però vedere una persona strutturata inquadrata che ha studiato che ti fa il turpiloquio ma te lo fa con una dizione perfetta è bellissimo no gli indiani che scavano le piscine nella foresta sai ste robe schiacciano i brufoli ho superato la pischella mia la gente che mette a posto casa tutta precisa che la pulisce tipo Mary Gondo e poi chiaramente non lo fa ciao Simona certo 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 perché c'è questo dark side capito non sa come portarlo in superficie capito cioè la sua parte è più recondita più nascosta sì 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 il difficile infatti è sposare il tuo guilty pleasure cioè portarlo in superficie a galla accettarlo accettarlo sì e abbracciarlo capito abbracciare quindi dice che lei vorrebbe pulire casa però poi non diventirebbe tipo donna casalinga però poi incontra Instagram ah no ok poi inciampa nei social capito che le permettono l'illusione di mettere a posto capito a proposito di scrittura io ti volevo chiedere un po' del libro tu per me sei morto ok perché l'ho adorato ti volevo chiedere un po' come no non ha letto nessuno io infatti non l'ho letto lui l'ha comprato ma non me l'ha passato l'ho scritto ma non l'ho letto non l'ho ricontrollato io ti volevo chiedere del libro se avevi qualche fonte di ispirazione come ti sono venuti in mente i soggetti la storia in realtà la storia è stata pensata durante la quarantena poi l'ho rimaneggiata molto con il mio editor e adesso non ci sentiamo più ah ecco ottimo è fine è fine siamo rimasti in ottimi rapporti non ci sentiamo più sedotto e abbandonato ma tu c'hai qualche scrittore che hai preso a riferimento che ti ha aiutato nella crescita cioè nel senso fonti di ispirazione che ti posso dire Bukowski, Palaniuk, Welsh l'hai nominati tutti l'hai nominati tutti in realtà Welsh ho provato tante volte a leggerlo però non mi ha mai preso tantissimo un libro della quale non sono riuscito proprio a staccare la faccia Fabio Volo esatto vabbè parte quello che voglio dire cavolavoro pezzo di core infatti voglio essere seppellito con un libro di Fabio Volo lo sai questa cosa sul mio testamento è scritto così secondo me ci stalla giro sempre con un libro di Fabio Volo su cuore quello che ferma i proiettili questo era per quelli al cuore questo per quelli al fegato il libro è American Psycho di Brett Estonelli che comunque quando lo vedi ti spaventa perché sto 500 pagine rotte invece te lo magni parli con una persona quando smetti di parlare così posso riprendere a leggere e quel libro me lo sono veramente divorato alcune parti l'ho saltato perché sono talmente gore che stavo per sbrattare lo stesso del film ti ha ispirato che poi hanno fatto il film però il film è molto più comico il libro non mi ha fatto il film il film è figo perché obiettivamente adesso c'è un ritorno in auge con i Sigma Bruno e come no e con con Patrick Bateman che è diventato la nuova mascotte dei degli alfa che non ce l'hanno fatta su TikTok però il libro l'ha diretto una donna e chiaramente per cercare di allargare il più possibile il bocino dance era diventato molto black humor molto comico le parti horror sono quasi zero proprio c'è zero e invece nel libro succedono cose terribili infila tipo a una tizia gli spruzza talmente tanto Mace in faccia che gli escono fuori le orbite madonna poi gli spara spara ghiodi tipo sulle mani sì è una cosa terribile gli infila tipo dei topi nella figa c'è una cosa terribile sì sì da vomita però non riesci a staccare gli occhi da quel cazzo di libro e più invecchia è più invecchia bene le posso dire perché è sempre più attuale vedi tocca a provarlo vai lui spara sta domanda intelligente no non sono intelligente ma è una cazzata però prima stavamo a parlare adesso proprio un secondo fa fuori dell'intelligenza artificiale quindi mo c'è stata tutta la questione chat GPT eccetera quanto magari non so ma è una cazzata ripeto può incidere sulla scrittura sta roba che mo è uscita io oggi sono incappato nuncio dell'accademia delle belle arti non so dove non mi ricordo corso scusate corso di disegno con intelligenza artificiale e ti dici ma che cazzo cioè che a me mi serve in corso tipo voglio dire sto delegato cioè tipo sto subappaltando la pratica voglio dire ma devo fare pure in corso basta che pago il problema è che in realtà mi giorni quello che vogliono fare l'industria 5.0 cioè vuole far quello accompagnare l'umano con la digitalizzazione sì ho capito ma se ti serve l'assistante di sostegno chiaramente soprattutto nel disegno che è un'arte sì è una cosa assurda a parte che adesso stanno cercando di limitare comunque l'intelligenza artificiale dal punto di vista del copyright perché comunque l'intelligenza artificiale va su internet e se va a prendere contenuti dei terzi non è che si inventa niente fa un patchwork tipo come i sogni quando sogni la faccia di qualcuno non è mai la faccia di qualcuno è un medley tipo delle facce che hai visto nella tua vita perché non puoi è chiaro che non puoi inventare una cosa da zero la tua mente è fatta di input che hai incamerato e la stessa cosa lo fa l'intelligenza artificiale domanda se non è farina del tuo sacco perché cazzo c'è degli annauri a scuola non ho capito boh non lo so è un discorso strano io ho paura di dove stiamo andando ed è proprio per questo che la mia ragazza mi dice quando mi triosco la motica è tutto brutto è tutto brutto perché obiettivamente la direzione intrapresa cioè non è che arriverà il giorno secondo te perché tu arriverai esperto di tutto arriverà il giorno in cui magari c'è te GPT intelligenza artificiale eccetera farà un prodotto migliore di quello che può fare l'essere umano ma già lo fa già lo fa ma stiamo andando a merda migliore secondo me stiamo andando a merda stiamo andando a merda ma definisci migliore cioè perché se l'intelligenza artificiale tu gli è della giusta imbeccata cioè tipo a livello di esecuzione sì vabbè a meno che tu non sei cazzo di caravaggio cioè comunque è una sorta di livella cioè comunque appiana a livello di selezione cioè tipo di chi può raggiungere un certo livello un certo standard e chi non gliela fa cioè perché comunque conosco un sacco di persone che non gliela fanno e se mi giorni gli pisce in culo perdonate il termine il francesismo tipo con cinque secondi di ricerca su internet we are fucked cioè sei obiettivamente nei guai non lo so è difficile sicuramente il futuro è fatto di persone che fanno molte cose forse cercare di diversificare a livello di introiti al mese è utile cioè perché il tuo lavoro sei costantemente in pericolo cioè perché puoi essere sostituito da un giorno all'altro da una scoperta scientifica cioè quindi di conseguenza boh fate funzionare il cervello è un bel messaggio no no è una merda cioè tu che dici qual è la tua impressione cioè per il futuro per me è una roba che mi mette molta paura cioè il fatto che una macchina diciamo in maniera molto così possa fare un mix di tutti gli autori che a te piacciono eccetera e quindi farti l'opera perfetta il film perfetto che a te piace come genere eccetera cioè per me mi mette proprio ansia lo sai che cos'è che continuerà ad essere appannaggio esclusivo degli esseri umani in futuro in quanto riguarda per quanto riguarda mano d'opera cioè comunque sia il raggiungimento di un obiettivo lo sai che cos'è che una macchina non si accolla il rischio se ci sono delle decisioni da prendere e c'è ed è contemplato del gambling cioè ovvero questa cosa una macchina ti dice il rischio è troppo alto questa cosa non si può fare l'essere umano per istinto di sopravvivenza ed è l'unica cosa che ci contraddistingue dalle macchine lo fa esempio se un essere umano cioè un aereo sta volando ed è guidato da un'intelligenza artificiale se c'è un'avaria e i motori stanno continuando a cedere uno dopo l'altro l'unica l'unico essere vivente cioè l'unica l'unica persona l'unico professionista che si può accollare tipo metti le mani su questi motori tipo possono esplodere o ti può portare a terra la macchina non si raccolla la macchina si raccolla il rischio minore possibile sì ma se non c'è una scelta cioè se tu dici se c'è la possibilità di aggravare la situazione la macchina preferisce spegnere tutto però se sull'aereo sono delle persone è chiaro che la macchina non è che può dire vada me vado a piancaffè scusate ci passo su fatti poschettino fatti poschettino cazzo torni a bordo per ora questa è la cosa che ci magari invece fa un calcolo che dice che preferisce fare una certa manovra che magari fa 30 morti ma ne salva altri 120 è la questione etica però è certo è quella la macchina dice 8 però è una riduzione dei rischi però se io ti dico o fai questo e morimo tutti o fai questo e atterrammo e può essere che comunque morimo tutti la macchina non se l'accolla che dice system failure 404 bravo non c'è nessuna differenza la resa alla fine è la stessa l'unica professionista sì cosa tipo cosa inanimata che si può accollare questa cosa è un essere umano che si accolla il rischio di fallire perché sta morendo pure lui capito quindi è disperato la disperazione è una variabile la nostra speranza è la disperazione il futuro il futuro la professione del futuro è la disperazione senti ritornando un po' all'intervista qua in scaletta sempre Brian ha messo una domanda è sempre Brian ma perché è il pezzo del meglio tutte le risposte le domande sì sì perché queste queste sa sue queste sa sue guardia sì 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 no no però questa è carina scrive il buon Brian il Brian il Pascoli il Brian sa che c'è stato uno sketch con Sgarbi mai pubblicato eh sì sì ce lo racconti come faccio a raccontarti un sogno come faccio a raccontarti un'utopia tipo sono tipo le città impossibili di guarda ti racconto soltanto un'inquadratura vai cioè un'inquadratura dove Luca è in crisi tipo entra dentro questa caverna tipo crisi mistica e incontra Garbi vestito da stregone come la montagna sagra di Jodorowsky con due capre non so se avete presente quella famosa inquadratura dove c'è questo stregone col cappello che ha due capre e si gira verso i piedi e fa capra 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 e questo è un po' la scena madre perché Sgarbi mi ha dato la sua disponibilità e i miei se mi colleghi no cioè Luigi e Matteo hanno detto no quel giorno non c'è sto io ho fatto ma e questo è quanto porca hanno privato il mondo di un cavolavoro siamo orfani fatta di sliding doors questo è lo sliding doors sbagliato già gli insultati ma se li vuoi insultare in qualche camera io ti posso rispondere come Stephen Strange in Endgame in quanti in quanti universi succede che Sgarbi fa questo sia in uno ed è lì che ho girato il Titanic ed è lì esatto ed è lì è finita male cioè pure la puntata di Rick e Morty è finita male questo è quanto e invece è strano farsi dirigere da un regista perché io penso che comunque tutti gli sketch che avete fatto con The Pills l'avete sempre scelti insieme nel momento in cui invece tu sei attore per un altro regista un'altra produzione quanto è difficile farsi dirigere non scegliere tu la sceneggiatura non scegliere tu il personaggio no è bellissimo ok ti devi trovare con il regista farsi dirigere cioè comunque sei a disposizione di una persona cioè quindi è la vacanza tu da sceneggiatore non ti viene da rusicare perché quel soggetto non ti piace lo vorresti diverso in realtà no comunque sia quando scegli di metterti al servizio di una visione altrui lo fai ok poi se il cash è buono è buono lo fai più volentieri però per dirti l'unica presa a male che ci può stare in un frangiante simile è che arrivi sul set devi girare una scena e il regista non sa quello che vuole cioè quella è una cosa che te la fa prendere male perché dici cazzo dimmi ho preso Luca le direttive fai te io mi sto mi metto al tuo servizio ti faccio anche delle proposte capiamolo insieme vediamo insieme però non ha idea di quello cioè magari non ha idea di quello che sta facendo non sa che cosa vuole e si accontenta della prima cosa che trova cioè quella cosa un po' la fa prendere male perché pensi di essere stato adoperato nella maniera sbagliata magari però certo però cioè mettendo bocca sulla sceneggiatura mi sembra troppo pretenzioso cioè perché se sei lì per fare l'attore sei uno strumento cioè quindi di conseguenza ti metti al servizio ti devi mettere per forza di cosa al servizio hai accettato di prendere parte in quella veste e quello deve essere certo volevo chiedere come ti sei preparato a livello recitativo proprio da attore ma in quale frangente cioè in generale cosa hai studiato c'hai dell'idea oppure tutto d'autodidatta d'autodidatta e di cioè dai dei pils sei sempre stato davanti in la camera e quindi hai imparato delle cose con l'esperienza non è che abbia fatto cose molto di similità cioè non è che sia sto grande trasformista faccio Christian Bale che dimagrisco no però se ti capita che ti chiama appunto in queste situazioni qualcuno regista sarebbe un lusso cioè che qualcuno ti chiami per metterti in dei panni che non sono i tuoi sarebbe pazzesco cioè però io ti non so io cioè mi arriva la sceneggiatura tipo ho scritto il protagonista ha la barba gli occhiali e una camicia da boscaiolo cioè è chiaro che è chiaro che voglio dire non è che stiamo andando tanto lontani dal infatti la mia frustrazione spesso e volentieri viene da questo cioè capito mi mandano queste cose ed è praticamente un provino su parte per Luca Vecchi poi non ti prendono come Charlie Chaplin che arriva secondo a un contest di Charlie Chaplin tra i due quest'altro è più Luca Vecchi questo è più Luca Vecchi ma ha una barba posticcia l'ha comprata dal Casalinghi allora lì fottetevi che cosa vi devo dire non lo so senti un po' invece devo a inizio ci avevi detto che ti facevi un sacco di pip questo è stato detto diciamo vabbè dai ma nello scusa o ricamera l'hai detto dai ragazzino alle medie chi è che non si voglio dire quando scopri le pippe è chiaro che ti massacri di pippe voglio dire e anche dopo anche dopo che ne facciamo tutti anche adesso è come aver scoperto un super potere è come quella parte del film in cui Spider-Man scopre di essere Spider-Man è chiaro che cazzo se ne va a sparare le ragnatele in giro per tutta Manhattan cioè voglio dire è il funny in games cioè voglio dire la domanda era la domanda era i de pizio comunque a Roma sono stati un fenomeno importante ti hanno fatto scopare vi hanno fatto scopare ci è dovuto arrivare ma guarda è un miracolo che non ci abbia fatto arrestare no ma a parte gli scherzi cioè definisci cioè no che ne so andavi che ne so a qualche serata concerto X e ti ritrovavi qualche pischella un po' avete fatto di tutto poi sei uscito dopo dei pizza hai detto porco due queste me si vogliono scopare te dici sono bello sono diventato più bello non è oppure è giusto la riflessione che tu fai è proprio giusto non lo sai sei uno strumento cioè se vieni strumentalizzato cioè lo stanno facendo perché è chiaro che lo stanno facendo perché gli vediamo non è che ti metti sul curico l'ombroca vecchi dici wow capito cioè non è che lo scrivi su linkedin quando torni a casa la sera però un po' di attrazione un po' di strumentalizzazione la avverti cioè poi il patto spettatoriale è dici vabbè voglio dare adito a quest'ennesima situazione senza senso mi approfitto di questa situazione De Pils nel suo picco di fulgido splendore mi ha trasformato in una pischella e io vi auguro di provare di provare la sensazione è perché è proprio una cosa di gender quasi di gender fluid è come quasi una cosa di travestirsi è un esperimento sociale da provare è come quando ti vesti da guardia quando ti vesti da guardia io ti posso assicurare a me mi è capitato per una guardia per amico cioè io ho fittato questa divisa da poliziotto e quando tu vai in giro con una cazzo di divisa da poliziotto le persone si comportano con te in una maniera diversa il lato oscuro della forza ha una fascinazione molto molto potente che tu sia una guardia che tu sia una pischella quando ti svegli nella savana devi correre devi correre esatto esatto uno corre appresso col manganano l'altra scappa dall'abuso no no però a parte gli scherzi eri improvumoso quindi sei improvumoso no non è una questione di essere profumiera cioè perché io veramente in alcune frangenti ho proprio fatto no 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 ma dai e fai lui il dump e te ne vai però è brutto essere oggettificato in una maniera gratuita c'è capito quindi dici chiaro che la cosa mi si può ritorciere contro in tanti modi in milioni di modi sta abusando di me mi posso approfittare della condizione ma poi comunque mi si ritorciera contro oppure puoi tenere tutto un po' plain chiaramente prima di prendere confidenza con il lato oscuro della forza ho fatto delle cagate mai viste adesso non è che non credo di avere dei figli che non magari un giorno è quello che ti ha rubato il provino che ormai è cresciuto ammazza che intreccio pazzesco da me sto 5 bravo well played è stato win nice shot giusto giusto non avrei saputo pensare a una conclusione è migliore e con questa chiudere in bellezza grazie Lu per essere stato con noi grazie a voi salutiamo i nostri amici di aver ascoltato i miei vaneggiamenti ci vediamo prossima puntata ciao ciao ragazzi